Ristretto italiano. I media internazionali scrivono di noi. Eccoci, buongiorno. Nei giorni del primo anniversario di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, lunedì prossimo, il 23 ottobre, la stampa italiana, ma anche la stampa estera, si produce in bilanci e valutazioni. Salto quelle italiane e, come vuole il nostro ristretto, mi occupo della stampa estera e apro con The Sentinel dal Colorado, che sulla base di un servizio su Associated Press titola Il premier italiano di estrema destra Meloni sfida i timori di danneggiare la democrazia e di scontrarsi con la UE. Tanto tonò che non piove, si può dire, all'inizio fra i temi della campagna elettorale e le radici fasciste, tutti gridarono dall'Italia e da fuori, al ritorno del fascismo, 80 anni dopo la caduta di Mussolini. La stessa presidente europea, von der Leyen, fece dichiarazioni quantomeno discutibili, affermando che nel caso l'Europa ha comunque sempre gli strumenti per rimettere in riga le devianze di ogni singolo suo componente. La stessa von der Leyen, del resto che in tempi molto più recenti, ha preso sotto braccio la nostra Giorgia per accompagnarla prima in Tunisia e poi a Lampedusa. Ben cosciente, osservo io, che fra un anno i voti della Meloni saranno per lei fondamentali quando tenterà di essere confermata alla presidenza della Commissione. Tuttavia, e qui torno a Sentinel dal Colorado, anche i più scettici si sono dovuti ricredere. L'Italia della Meloni ha sostenuto fermamente la Nato sull'Ucraina, non ha fatto nessuna guerra a Bruxelles, come ci si sarebbe aspettati anche dai suoi stessi proclami precedenti, sui migranti non ha saputo fare granché in effetti, nonostante le suggestioni dei blocchi navali, sapendosi comportare da statista responsabile, al punto che oggi rischia di essere superata a destra, ma sempre solo a parole, dal suo vice Salvini. Su alcune decisioni Meloni ha avuto battute d'arresto non da poco, continua l'articolo, come sulla ventilata tassa sugli extraprofitti delle banche o sull'incapacità di mettere fine all'arroganza dei tassisti. E anche oggi, dopo il ritorno del terrore firmato Hamas, ha saputo dare un supporto reale alla comunità israelitica, prima visitando la sinagoga di Roma e poi, nei giorni scorsi, l'altro giorno si può dire, in occasione della ricorrenza del rastrellamento del ghetto di Roma, denunciando senza giri di parole le complicità del fascismo, del consegnare centinaia di ebrei romani ai nazisti. Dal 1946, conclude l'articolo, ad oggi i governi italiani sono durati mediamente 361 giorni e oggi, 20 ottobre, con Meloni, siamo a 362. Insomma, per ora la media della durata dei governi italiani è superata di un giorno, ma non c'è niente che ci faccia pensare che non vada molto più a lungo rispetto a questa media. E a proposito, di ritorno del pericolo del terrorismo islamico, a nessun osservatore straniero è sfuggita la decisione di ripristinare i controlli di frontiera all'ingresso della Slovenia, con blocchi di polizia a chiunque entri dai confini con Friuli e Venezia Giulia. Reuters, in proposito, titola per esempio l'Italia ripristina i controlli alle frontiere con la Slovenia, citando il rischio di attentati. Sospendere il trattato di Schengen, ovvero quello della libera circolazione fra i paesi dell'Unione, non è mai una decisione facile. Potersi spostare all'interno dell'Unione senza dover mostrare i documenti a nessuno è un grandissimo vantaggio per tutti noi. Tuttavia, c'è da dire che non è la prima volta che accade. Accadde, per esempio, durante la pandemia, quando ogni paese europeo cercò di proteggersi come poteva contro di noi italiani untori e quindi le frontiere ce le chiudevano da fuori verso di noi, a cominciare dalla Slovenia. Mi prendo la responsabilità di questa mia scelta, ha detto comunque ieri Giorgia Meloni, citando il carente controllo ai confini esterni dell'Unione. Quindi dice un controllo in più una volta che passano dalla Slovenia all'Italia è utile e necessario. Però c'è da dire anche che un'arma a doppio taglio dal momento che chiuderci dentro la nostra penisola significa anche allo stesso tempo rendere più difficile l'espatrio, da sempre tollerato anche se mai ammesso, di chi sbarca in Italia, altra frontiera esterna dell'Unione per sua stessa natura difficilissima da controllare e poi si arrangia come può per lasciarla questa Italia. E ancora una volta, a proposito delle marce indietro di cui la Meloni è stata costretta, vedi come dicevamo prima le banche e i tassisti, ce n'è ora una in arrivo, un'altra, da Hong Kong Green Queen, titola Che sorpresa l'Italia fa in versione di rotta sul divieto della carne coltivata. C'è da dire che Hong Kong è una delle frontiere più avanzate nella produzione di carne sintetica, di carne coltivata. Voi immagino ricordate a primavera quando il ministro Lollo Brigida, ministro all'agricoltura, esternava un giorno sì e l'altro pure sull'italianità della qualunque carne compresa e volle per questo il decreto sullo stop alla sperimentazione e alla produzione della carne di laboratorio. Lo ricordiamo ancora bene, sono passati pochi mesi. E ora, benché già passata al Senato in attesa dell'ok della Camera, questa legge sembra davvero destinata a un binario morto. Molteplici infatti sono le difficoltà che via via si presentano. Primo che in Italia esiste a Trento uno dei centri di ricerca più avanzati sulla coltivazione delle cellule animali per produrre carne senza macellare alcuna bestia. Basta prelevare una cellula come per una normale biopsia, da questa cellula poi nascerà un hamburger. Quindi sarebbe un improvvido stop alla ricerca scientifica. E poi c'è il fatto che puoi al limite proibire la produzione sul nostro territorio. Ma molto più difficile è bloccarne le importazioni una volta che una legge comunitaria ne autorizza il commercio. Vedi le farine di insetti a inizio anno. E poi, ultimo ma non da ultima, la battaglia degli animalisti che nella carne coltivata vedono in proiezione un'ottima alternativa alla macellazione. La marcia indietro del governo ora è stata vista nel ritiro della notifica con la quale Roma è obbligata a comunicare a Bruxelles la decisione univoca italiana. Notifica che era stata mandata, poi l'altro giorno sono andati a ritirarla. Della serie che dal momento che tanto ci bocceranno e potranno farlo, meglio andarcene alla chetichella. Insomma, un'altra cosa su cui c'è a dire. Una marcia indietro rispetto ai tempi dei primi proclami si sta facendo. Chiudiamo parlando di cinema, ma di riprese cinematografiche. Perché? Non so se lo sapevate, ma c'è una testimonianza autorevole. Girare film a Venezia non è una passeggiata, non è uno scherzo. Lo sanno da sempre i nostri cineasti. E lo conferma in una intervista a Cineserie il regista francese Ivan Calberac, ricordando le riprese del suo, sempre simpatico, Venezia non è Italia. La storia del film è quella di una famiglia quantomeno singolare, atipica, inclassificabile, nella quale un padre dolce e pazzo, Bernard, costringe la famiglia a vivere in roulotte, che poi è singolare anche la madre, Annie, che continua a tingere di biondo i capelli del figlio Emile, pensando che così è più bello. E la storia comincia quando Pauline, compagna di scuola di Emile, della quale lui è segretamente innamorato, lo invita a Venezia per le vacanze. E il problema insorge quando i genitori decidono che a Venezia ci andranno tutti col figlio biondo tinto e lo accompagneranno i genitori con la roulotte di famiglia. Un viaggio che doveva essere romantico e che invece diventa qualcosa della specie oggi le comiche. Fin qui la storia che vi ho sintetizzato, ma solo perché mi divertiva raccontarvela. Al centro dell'intervista invece c'è il racconto di ciò che ha significato fare le riprese in quel labirinto, in quelle una parca, a cielo aperto, che oggi è Venezia. Attrezzature da spostare a bordo di chiatte lentissime. Turisti ovunque ti giri e difficile da escludere dalle immagini, ma ciò che il regista non aveva previsto era di arrivare a perdere il suo attore principale nel caos della città. Non lo trovavano più. Benoit Polverud un giorno si perse durante la pausa pranzo. Perché? Col divieto imposto alle troupe di mangiare in gruppo, troppo assembramento per quei luoghi così angusti, durante la pausa ognuno si organizzava per sé. E Polverud, risucchiato nel labirinto delle Calli, travolto dai turisti ovunque, era persino impossibilitato a farsi localizzare col WhatsApp. Lo vedevano lì, ma lì non c'era. Tra centinaia di altre persone, anche chiamandolo ad alta voce, non riuscivano a farsi rispondere. Un aneddoto divertente in chiusura di questo ristretto italiano. Io vi aspetto domani, sempre qui alla stessa ora, quella che scegliete voi per ascoltarci.